Città metropolitane fra Italia e Francia ha confronto sul tema strategico dello sviluppo e della cura del patrimonio forestale. È stato il tema dell'incontro che si è svolto il 23 novembre, in coincidenza con le manifestazioni per la giornata dell'albero, fra una delegazione della città metropolitana di Lione e quella di Torino. La delegazione, guidata dal vicepresidente di Grand Lyon, Pierre Atanas, è stata ricevuta dal vicesindaco Jacopo Suppo e dal consigliere delegato all'ambiente Gianfranco Guerrini con il personale tecnico della direzione ambiente. Tema centrale, le modalità con cui la città metropolitana di Torino sta affrontando la riforestazione su grande scala, grazie ai bandi del Ministero dell'Ambiente prima e a quelli del PNRR poi. Per approfondire gli aspetti tecnici legati alle problematiche, la delegazione di Grand Lyon ha visitato anche uno dei progetti di riforestazione, l'area a settimo torinese che fa parte della tangenziale verde a nord di Torino. Le discussione che abbiamo avuto questo mattino e le visite che siamo iniziati a realizzare che ci sono veramente un po' le performance di la metropole di Torino, le performance sulle le plantazione urbano. A Lyon, noi commenciamo solo le plantazione dei fori urbano come voi facendo qui facendocii. Quindi c'è la 3e anno, noi siamo proprio più modesti, ma non partiamo davvero di rien. Noi avevamo il sabato e abbiamo dei particolarii anche di climat, con una caleur che è molto forte e ovviamente delle periodi di sécheresse, ma che voi conosce anche a Turin. E veramente, questi échanges sono ricchi, sono importanti. C'è bene, ovviamente, che le elezioni si connessano, ma che possiamo parlare tecniche e veramente le nostre discussioni di mattina hanno stato molto tecniche. E io vorrei tornare con molti idee e io vorrei domandare al servizio di lavorare un po' un po' in noi inspirando un po' di ciò che avete fatto qui. La discussione di mattina è stata decisamente interessante, anche perché quando si scambiano delle idee e delle esperienze, credo che sia fondamentale per chiunque, si impara sempre qualcosa. Con i colleghi francesi abbiamo parlato proprio di questo discorso della forestazione, che però è leggermente diversa, perché le problematiche di Lione rispetto a Torino sono leggermente diverse. La nostra dimensione, soprattutto in città metropolitana, è decisamente più ampia rispetto a quello che è la città metropolitana di Lione e quindi anche i nostri interventi sono differenti su aree decisamente più ampie e facciamo proprio riforestazione. Mentre la città di Lione ha un problema diverso dal nostro, che è quello della grande calura, e quindi quando fanno degli interventi loro hanno come obiettivo quello di abbassare la temperatura della città, del territorio, mentre noi puntiamo molto più sulla biodiversità e sull'andare a raccogliere l'eccesso di CO2 e quindi in qualche modo di rigenerare quello che è il nostro terreno, che nel tempo è stato depauperato, o perché abbiamo costruito, o perché magari abbiamo dedicato tutta l'agricoltura e non alla parte di foreste.